Come sono andate queste due settimane di allenamenti? E con i giocatori che sono rimasti abbiamo fatto una bella mole di lavoro. Cosa si aspetta dai suoi ragazzi per la gara con l'Udinese? Che spirito vuole vedere in campo? Voglio vedere uno spirito che assomigli molto a quello che era stata la nostra partenza di questo campionato. Perché la prima giornata abbiamo fatto una gara spavalda, una gara di coraggio, una gara senza timore. E noi dobbiamo considerarla una nuova ripartenza e andare su quella fase di saliga cercando di mettere in campo il sacrificio ma legato anche a una certa voglia di risultato che passa attraverso l'entusiasmo che metti nel fare le cose. Noi dobbiamo essere attaccati agli episodi in maniera forte e non concedere nulla perché in questo ultimo periodo ci è costato caro tutto questo. Ma dobbiamo viverlo con quella sorta di coraggio che ti viene attraverso l'entusiasmo che puoi mettere nel fare le cose. E io voglio vedere questo, legato a un senso di responsabilità e sacrificio da parte della squadra. Come sono rientrati i nazionali? È possibile che qualcuno di loro parta titolare? Come sono rientrati? Ognuno di loro ha una propria storia. Chi ha giocato di più, chi ha giocato meno, chi è arrivato prima, chi è arrivato dopo. Per cui definire il loro rientro diventerebbe lunga. Sicuramente qualcuno di loro potrebbe partire a titolare, sì. Che squadra è l'Udinese? Come pensate di affrontarla? L'Udinese è una delle squadre che, andando a vedere i numeri, è una delle squadre che meriterebbe un posto in classifica diverso per questo inizio del campionato. Perché tra le altre cose è una squadra solida perché è tra le tre squadre che subisce meno tiri di tutto il campionato. Questo significa che concede poco. Dovremmo essere bravi perché hanno fisicità, hanno questa compattezza che le rende difficili da incontrare. Però questo è quello che fa parte della loro storia. Dobbiamo pensare alla nostra e sapere che al di là dell'avversario che avremo di fronte domani, noi dobbiamo mettere una prestazione di grande carattere, di grande temperamento, di sacrificio e di coraggio. ragazzi vi dammi l'attenzione di lanci pointeglich. Grazie.